Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Ben trovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, a seguito della persistere delle precipitazioni con quantitativi da elevati a molto elevati, nonché dell'emissione di un nuovo avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha diramato una nuova allerta per il rischio idraulico diffuso per le zone della Marsica e dell'Alto Sangro. allerta rossa. Inoltre, in occasione dei quantitativi di pioggia previsti per le prossime ore inferiori a quelli stimati in precedenza, il Centro Funzionale d'Abruzzo ha emesso un nuovo avviso di criticità regionale già da ieri con previsione di allerta arancione per il rischio idraulico diffuso sulle zone interne della regione, in particolare in provincia dell'Aquila. E in effetti, proprio in quella zona si sono verificati fenomeni molto intensi per quanto riguarda il maltempo, si sono registrate anche difficoltà. Infatti, anche per la giornata di oggi, le scuole di ogni ordine grado resteranno chiuse a causa del perdurare dell'allerta maltempo in alcuni comuni della Marsica, cioè Luco dei Marsi, Castella Fiume, Aielli, Cerchio, San Vincenzo, Valle Roveto, Pescasseroli, San Benedetto dei Marsi. A Collelongo scuole aperte, ma con ingresso posticipato alle 9.30. Regolari sono invece le elezioni ad Avezzano, dove, a causa del maltempo, si sono registrati allagamenti in diversi punti, soprattutto a Piazza Torlogna e via 20 Settembre. Le fogne sono stralipate a causa della notevole portata delle precipitazioni. I tombini sono saltati in diversi punti, trasformandosi in zampini d'acqua fognaria, che si è riversata lungo le strade del cittadine. In particolare è stato chiuso il traffico al sottopasso di via Pagani. Il sindaco ha ordinato l'apertura del centro operativo comunale a Luco dei Marsi. È stata chiusa la strada 43 a causa di un albero abbattuto dal vento. Inoltre viene segnalato un cedimento di carico del fossato lungo strada 22 all'ingresso del paese. Sul posto hanno operato i tecnici e gli operai del comune con i volontari della protezione civile. Si segnala anche l'ingrossamento del fiume Sangro che tocca Opi e Pescasseroli e resta costantemente sorvegliato per il pericolo e sondazione. A causa della piena, infatti, è stata disposta la chiusura dei ponti pedonali che portano su Viale Benedetto Croce, chiuso al traffico veicolare pedonale il ponte di Via Piave. Una donna è stata ferita dall'albero crollato sopra la sua auto a Pescara. È avvenuto ieri mattina in pieno centro in Via Vezzano. La donna aveva 49 anni ed è di Pescara. È stata trasportata subito all'ospedale dove è stata sottoposta intervento chirurgico alla gamba. Il fusto ha travolto la sua auto. Il ramo l'avrebbe colpita provocando le ferite profonde. Secondo quanto emerso, l'albero di notevoli dimensioni, è crollato a causa del forte vento che soffiava in quel momento ed è caduto proprio sull'auto che la donna aveva parcheggiato in Via Vezzano. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i soccorritori del 118. Al termine dell'intervento chirurgico, la donna è stata ricoverata nel reparto di ortopedia. La prognosi è di 40 giorni. Secondo la ricostruzione, la 49enne era nella sua auto in sosta quando a causa del forte vento un grosso tronco si è staccato da un pioppo ed ha preso in pieno la parte anteriore della sua automobile. Danneggiato ha anche un secondo veicolo parcheggiato in strada. E su questa vicenda, così come sulle problematiche relative a diversi alberi in città, si innesca un dibattito a distanza. Interviene infatti il vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioni, che fa sapere. A fronte delle raffiche di vento a tratti molto intense che hanno interessato un po' tutta la penisola e anche la città di Pescara e che hanno determinato la caduta di numerosi rami e alberi, anche di piccola grandezza in vie e parchi, i cittadini abbiamo attivato subito tutte le verifiche attraverso l'ufficio verde del comune per capire situazioni e cause delle rotture. Nel mese di settembre il servizio verde ha reso ufficiale attraverso un'indagine esplorativa volta ad individuare un operatore che verificasse il rischio su 1.075 esemplari di alberi della città, l'elenco degli alberi interessati dalla cosiddetta VTA, Visual Tree Assessment, tra cui rientra anche il pioppo di Via Vezzano. Quel pioppo, come altri dello stesso filare nel recente passato, è stato oggetto a più riprese della riduzione della chioma per una progressiva eliminazione dei pericoli derivanti da patogeni fungini localizzati in porzioni della chioma. Sulla questione degli alberi a Pescara intervengono anche le associazioni Italia Nostra Pescara, Archeoclub Pescara, Conalpa, coordinamento nazionale alberi e paesaggio, Ecoistituto Abruzzo, Miladonna Ambiente, La Gallina Caminante, Forum H2O, Pronatura Abruzzo, oltre il gazebo No Filovia e Pescara Punto Zero. E ormai accertato, le condizioni meteo ci riservano situazioni sempre più difficili da gestire, improvvise e violente. Il territorio cittadino sta pagando a caro prezzo e da anni la forte cementificazione, scrivono le associazioni che proseguono. Riteniamo che il terrore per l'albero rappresenti una deriva ricorrente che si riaccende ad ogni maltempo e che impone a cittadini e turisti stati di stress e ansia. Una fobia che può e deve essere superata. Non vogliamo che gli alberi piantati dal comune siano poi dimenticate. Piante divorate dal caldo torrido, dagli atti vandalici, abbandonate in aiuole con terreni non idonei. Non vogliamo una vegetazione sinantropica e ruderale. Ciò che critichiamo è la mancanza di una gestione corretta e sostenibile degli alberi e dei parchi cittadini. Noi crediamo che insieme nel coinvolgimento di associazioni e cittadini si possano raggiungere risultati importanti verso una visione verde della città di Pescara. Pescara città di mare, di fiume e di alberi o meglio di pini. Cambiamo argomento. Diversi lotti di uova e di gallina sono stati ritirati dal mercato per una possibile contaminazione da salmonella enteriditis. Le uova provengono da un'azienda aquilana. Il Ministero della Salute invita i cittadini che avessero acquistato le uova a riportarle indietro. Il ritiro per rischio microbiologico riguarda uova fresche di due marchi prodotti dalla stessa azienda agricola. La Avicola Sagittario di Garant & Company nello stabilimento di Bugnara in provincia dell'Aquila. Il Ministero della Salute invita a riportare le confezioni nei punti vendita di acquisto. Gli avvisi riguardano i lotti 08-111, 12-11, 15-11 e 19-11 di uova fresche allevate a terra a marchio Garantuomo con scadenza 8 novembre 2018, 12 novembre 2018, 15 novembre 2018 e 19 novembre 2018. Il secondo ritiro riguarda i lotti 1-5-1-1-1-8-1-5-1-1-8-3 con scadenza 8 novembre 2018, 12 novembre 2018, 15 novembre 2018 e 19 novembre 2018. Gli altri lotti interessati sono l'17-1-1-1-1-8-3 e 19-1-1-1-1-8-3 delle uova ad allevamento in batteria a marchio Avicola Sagittario con scadenze 15 novembre, 17 novembre, 19 novembre. Il terzo richiamo riguarda i lotti 08-1-1-1-8-3, 11-1-1-1-8-3 e 13-1-1-1-1-8-3 a marchio anche qui Avicola Sagittario con scadenza 8 novembre, 11 novembre e 13 novembre. Comunque trovate sul web la possibilità di vedere nel dettaglio quali sono questi lotti magari anche visitando proprio il sito del Ministero della Salute. La Corte d'Appello di Roma ha condannato l'ex rettore dell'Università dell'Aquila Ferdinando Di Orio alla pena di due anni e mezzo di reclusione con l'accusa di induzione indebita nei confronti del professore dello stesso Ateneo Sergio Tiberti con cui in passato aveva buoni rapporti. I giudici di secondo grado hanno confermato le accuse del processo di primo quando il Tribunale di Roma aveva inflitto a Di Orio una condanna di tre anni. La riduzione di pena di sei mesi è stata causata dal fatto che alcuni reati sono andati prescritti. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino a tutto il pomeriggio nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 13 a 20 gradi e venti moderati. Nelle zone interne cielo sereno fino a metà pomeriggio nuvoloso nel resto del pomeriggio e nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 13 a 17 gradi e venti da deboli e moderati. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. a cura della redazione giornalistica. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della regionale di Pescara Penne, grazie e risposta di